Domani a Stagni si terrà il secondo incontro organizzato dal gruppo spontaneo Basta Commissariamento, nato per contestare la proroga della gestione amministrativa straordinaria del decimo municipio. Piano di risanamento idrogeologico avvolto nel mistero, si legge in una nota, lavori su viartiense fermi, voragini, l'entroterra non ha mai visto intervenire uno dei commissari. L'incontro è previsto per le 10.30 di domani nella sede del locale Comitato di Quartiere e via Pazzini 21.